Buongiorno a tutti, buon lunedì, oggi lunedì di festa perlomeno qua in Inghilterra o in America. Io sono Davide Calabrese e vi sto comunicando da Londra in un ufficio deserto, però insomma devo dire siamo operativi. In linea con me questa mattina Giovanni Lapidari che saluto prontamente. Ciao Gio, buongiorno a te, buon lunedì. Ciao Davidone caro, ciao a tutti, buongiorno a tutti i colleghi. Ecco questa mattina si doveva parlare ancora di divergenze, la seconda lezione per capire un po' come funzionano queste divergenze e insomma come approcciarsi al mercato. Io e te, Gio, come diciamolo a tutti, insomma ieri ci siamo sentiti un po', abbiamo fatto un piccolo punto della situazione dal punto di vista macroeconomico o comunque dal punto di vista della nostra bella o brutta Italia, che dir si voglia, e per cui abbiamo deciso di fare un piccolo excursus questa mattina cercando di capire questa situazione italiana, che cosa può portare da un punto di vista grafico, da un punto di vista dei movimenti dei mercati, dei futures che già come mi dicevi prima si stanno muovendo, per cui se le persone insomma ci dicono qualcosa a riguardo però io penso che sia una grande idea insomma cercare di analizzare quello che sta accadendo adesso a casa nostra in Italia e cercare di capire quelle che possono essere le evoluzioni di tutto questo sui mercati finanziari. Per cui parleremo di divergenze sì, magari in chiusura o comunque faremo un extra webinar, però io direi cerchiamo di capire cosa sta succedendo e un po' quali possono essere gli spunti operativi sui mercati. cosa ne dici Joe? Ne dico, ne dico, ne dico, ne dico. Mettiamo anche sul grafico italiano un formato dove si parla anche delle divergenze, perché comunque le useremo per fare dei commenti. Di nuovo buongiorno a tutti, abbiamo pensato, io e Davide ieri sera, vista l'evoluzione che stava avvenendo sulla situazione italiana, che poi è un'evoluzione che ragionandoci con un attimo di calma la finanza sta interpretando con un cinismo allucinante, ma di questo poi ne parleremo, che oggi potesse essere il caso di spostare ad un'altra data il discorso delle divergenze. Mostra schermo adesso, è bellissimo perché io ho tanti schermi, dimmi cosa vedi Davide perché io ogni tanto poi con gli schermi sono un po' di in giro. Vedo la tua bellissima dashboard. Allora, se vedi la dashboard, abbiamo premuto sul tasto giusto. Fantastico. E abbiamo pensato oggi di dire, ok, prendiamo comunque spunto per una visione dei mercati, che possa essere anche valida per questa settimana, all'interno anche di alcuni studi che ho fatto, che vi farò vedere e che di norma mettiamo per gli abbonati di my3d.club, per capire un attimo in che momento ci stiamo trovando. Procederò pertanto abbastanza a mano libera usando questo set di dieci grafici che ho qui davanti, perché se si parla d'Italia comunque non dobbiamo assolutamente perdere di vista che siamo molto influenzati dal settore obbligazionario, dal settore delle materie prime, dal settore delle banche, quindi quando si parla d'Italia non si può trascurare Eurostoxx, che infatti stamattina in apertura alle 8 performava già più forte rispetto al DAX, dove non avremo il conforto di alcuni strumenti che ancora per poco, quindi qui vi do un annuncio, mancano dalla piattaforma di Infinox, ma ritengo che per l'ITF la piattaforma sarà, quindi l'ITF ormai mancano due settimane, sarà estremamente più ricca gli strumenti, useremo il conforto di una piattaforma sui mercati ufficiali. Fra l'altro vorrei che anche Davide intervenisse, perché per quanto riguarda i mercati ufficiali, proprio per l'ITF ci sarà una novità interessante che a me personalmente fa molto piacere, visto che oltre che a operare su CFD e Forex, personalmente in tutti questi anni ho iniziato ad operare con i mercati ufficiali e continuo personalmente a poterlo fare. Davide se ne vuoi accennare, perché penso sia un discorso piuttosto importante qua. Certo, grazie dell'assist Joe, Infinox sta per sbarcare sui mercati regolamentati, quindi sta facendo un passo abbastanza importante, perché comunque ci si sposta sicuramente su un certo tipo di territorio, non dico fertile, però un territorio molto serio, per cui metteremo a disposizione, e ti dico già Joe che già ce l'abbiamo, non è sponsorizzato sul sito, ma chi volesse ce l'abbiamo in versione manuale, quindi apriamo noi il conto, però a brevissimo ci sarà pure sul sito, piattaforme istituzionali che vengono usate dai più grandi hedge fund, quindi CQG, Stellar, Trading Technologies, per mettere a disposizione sulla stessa piattaforma, quindi non c'è bisogno di avere tanti portafogli di tante valute diverse, sulla stessa piattaforma l'accesso a tutti i mercati futures e opzioni sui futures globali, non c'è nessuna esclusione, quindi non è che facciamo il filtro sul CME piuttosto che su IDEM e quant'altro, ma si potranno tradare tutti i mercati, e il bello sarà che i prezzi saranno dedicati a ogni persona in base al volume che fa, quindi si potranno contrattare, e vi dico subito che saranno decisamente competitivi, non posso fare altri nomi, però fra i più competitivi in circolazione in Italia, per cui tanta roba, seguiteci su l'IT Forum. E poi in ogni caso, una raccomandazione che faccio a tutti i colleghi che fanno trading su CFD e su Valute Forex, il CFD secondo me è ancora uno strumento di una validità incredibile per quanto riguarda l'aspetto fondamentale del money management, al tempo stesso però se non si conoscono bene i mercati ufficiali, il CFD lo tradate con molta più difficoltà, ai supermercati ufficiali, ad esempio per quanto riguarda la borsa italiana, venerdì ho assistito personalmente a delle cose bellissime che sarà anche il caso di mandare a memoria perché sono cose estremamente importanti, passaggi di ordini flash, caccia agli stop, veramente venerdì si è visto di tutto. Ma entriamo di nuovo dando un buongiorno ai colleghi che si stanno collegando adesso a tutti. Allora, situazione dei mercati negli ultimi 15 giorni, quindi dall'inizio del mese di maggio. Una contrazione di volatilità abnorme, apro una parentesi, ho fatto come My Trader Club ieri un video che dura 45 minuti, didattico, per far vedere come si era comportato, alcuni di voi che saluto di nuovo, Mico Giovanni eccetera eccetera l'hanno visto ieri, è disponibile già sul nostro canale YouTube e sul mio canale YouTube, proprio un video dove ho fatto vedere la borsa italiana in rapporto allo spread bund BTP. Molti colleghi, soprattutto oggi con la diffusione dei social network, abbiamo come diceva il grande sociologo canadese Marshall McLuhan, i nostri 15 minuti di celebrità, sui social si sente dire che la finanza cattiva ha buttato giù i mercati, ce l'aveva con l'Italia eccetera eccetera, la finanza sappiate che non è mai stata un luogo di personcine e di anime belle e candide, la finanza è un luogo dove si mettono dei denari e si cerca di ricavarne altri denari, ogni altro genere di considerazioni può lasciare il tempo che trova. La discesa della borsa italiana è stata preparata dal 4 di aprile al 4 di maggio, dove in 20 giorni, in questo mese che è partito 4 aprile e 4 maggio, il BTP che normalmente nei mesi precedenti aveva una volatilità di 3,11 punti, se diamo al BTP un valore di 130, significava che il BTP poteva oscillare attorno a questa media di 3 punti e 11, la volatilità si era contratta del 50% e una volatilità che si contrae del 50% può andar bene per qualche giorno, per una settimana, questo è già un input didattico che vi lascio, ma non può andare bene quando questa contrazione dura per molto più tempo, questo significa che si stanno preparando dei movimenti importanti e quando i mercati preparano dei movimenti importanti, più la preparazione è lunga nel tempo, più i movimenti importanti saranno appunto robusti, appunto importanti, intanto nel frattempo ho disegnato qui sul DAX che so essere oltre che gli strumenti di cui parleremo oggi il forse il derivato più più tradato delle situazioni di tipo grafico per cui se volete andare short sul DAX io ve la dico non come segnale ma come a parere personale, attenderei che si vada a cercare questo 61,8 di Fibonacci anche anche in area 13.060 circa che fra l'altro come vedete dalla struttura grafica onda 1, onda 2, proiezioni di 1, dal minimo di onda 2, massimo ipotetico di onda 3, oltre a coincidere punto più punto meno col 61,8 di Fibonacci coincide con un'altra zona grafica importante che è questo minimo area qua di swing che vedete qui sotto quindi noi ci troviamo in presenza di un ripristino su base oraria di una funzione correttiva di una discesa impulsiva da parte del DAX e quindi se volete sapere come la come la vivrei e come la penserei credo che sul DAX si debba ancora attendere per la mattinata uno strappo che forse sicuramente poiché comunque il derivato tedesco è partito abbastanza brillante più che altro perché è partito in un forte lap questo non è un gap e lo ridico anche a costo di essere molto antipatico ma tanti di tanti di noi confondono queste figure con dei gap perché vedono dei salti molto forti dal prezzo di chiusura il gap e quando noi si apre sopra il massimo e non abbiamo sia pur di poco e comunque in maniera vistosa aperto sopra il massimo ma la chiusura è stata 12 9 30 adesso siamo a 13 0 24 25 significa che siamo alle 9 e 20 quindi dopo un'ora e venti dalle contrattazioni del future di circa 100 punti al di sopra del livello questo in termini di atteggiamento da avere per la mattina se vado a braccio e non vi piace che vado a braccio avete la funzione delle domande guidatemi pure perché oggi lo spazio per domande c'è ed è importante ed è giusto che ve lo prendiate io personalmente come davide siamo qua a vostra disposizione se ci sono delle questioni e delle domande da fare per quanto riguarda la visione dei mercati una visione che però soprattutto quando i mercati aprono forte non possiamo mai svincolare da un'analisi del mood della potenza con cui vanno ad aprire e questa roba va calcolata ogni giorno prendendo i rate di volatilità dopo un'ora e mezzo dalle contrattazioni questo è quello che normalmente avrebbe dovuto fare il dax alla volatilità normale dopo un'ora 40 punti questa è la volatilità del dax a un'ora è un algoritmo di volatilità che noi sviluppiamo sul mytrade.club ogni giorno e che prende spunto da alcune funzioni matematiche che si ricavano anche della forma della tr si prende la tr a cinque giorni e si costruiscono poi dei rate di volatilità non ve la sto a fare troppo lunga che vanno a dare un previsionale se la volatilità di 41 punti viene oltrepassata bisogna andare a cercare i rate di volatilità successive e mandiamo in memoria 154 154 è la volatilità del dax prevista per oggi calcolata sull'andamento delle cinque sedute quindi una volatilità previsionale 154 punti se il dax ha chiuso qua il gap il gap il lap vedete che ogni tanto sbaglio anch'io il salto di prezzo va compreso nella volatilità cioè non si partirà dal minimo di oggi che è 12.970 circa arrotondato ma si deve partire da dove abbiamo saltato quindi 12 9 e 30 più 154 punti usiamo la calcolatrice perché quest'ora ancora i neuroni si devono scaldare fa un massimo di 13 mila 84 in avvicinamento a questa zona consiglierei comunque di cominciare a prendere del profitto perché anche se c'è molta spinta il mercato non è da shortare lo dico subito secondo me anche mettendo un grafico a un minuto tanto voglio li vedremo anche sulle altre situazioni la spinta è forte la spinta è piuttosto robusta e lo short va veramente riservato a chi è capace di muoversi a piccoli tocchetti mandiamo a memoria che tra area 13 mila 60 e 13 mila 80 ci può essere un massimo importante vediamo dashboard cosa ci dice e la lapida dashboard ci dice che la zona di eccesso è 13 mila 80 quindi poiché il dax e se già no grazie se già conseguito con l'apertura forte i primi due target c'è un terzo target del 13 mila 50 sta più o meno qua sopra e poi c'è 13 mila 80 regoliamoci di conseguenza sotto questo aspetto la partenza sprint dei mercati la partenza sprint dei mercati è una partenza al limite dell'assurdo ma cosa è successo cosa era che teneva un po i mercati con il fiato sospeso il fatto che questo governo italiano affidato nelle mani del professor conte si era poi comunque subito impantanato fra due fuochi il primo fuoco che lo minacciava da una parte era quello della unione europea che per bocca di moscovi sì per bocca di juncker per bocca dei tedeschi come sapete nel fine settimana hanno fatto anche articoli molto simpatici sulla sulla nostra economia sul nostro paese e ci descrivevano come persone incapaci di rispettare i debiti e il mercato ce l'ha fatta pagare con lo spread andato sopra quota 200 ora uno spread che è andato sopra quota 200 e che era partito da 130 140 e che quindi si era fatto una salita di metà del suo valore perché se io sono 140 vado a 210 sto salendo di 70 ma 70 per quanto riguarda lo spread è la metà di 140 dove sono partito e quindi è come dire che un titolo da 10 va a 15 quel 5 è la metà di 10 quindi la salita del 50 per cento e di norma in matematica finanziaria incrementi del 50 per cento del valore di una x cosa sono sempre oggetto di riflessione soprattutto quando è stato il caso dello spread il 50 per cento va a verificarsi con il superamento l'avvicinamento il contatto con un numero tondo che è 200 c'è una cosa che in finanza marco tosoni lo spiega benissimo nel suo webinar proprio anche dal punto di vista psicologico è il tuo è il numero tondo l'avvicinarsi al numero tondo richiama a una forza di attrazione ma anche poi una forza di appagamento per cui poteva essere del tutto logico che avvicinati al numero tondo arrivassero delle prese di profitto che sono prese di profitto che sono state anche generate dal raggiungimento sull'indice italiano di livelli piuttosto importanti che andremo a descrivere che cosa però oggi dà origine a questo rimbalzo dei mercati azionari che la giornata è appena iniziata e che quindi andrà valutato veramente con il beneficio di inventario il fatto che si fosse arrivati su dei livelli di sacrificio sì ma per le borse europee forse forse ma non certo per le borse mondiali dove l'america veleggia ancora nonostante la forza del dollaro su livelli estremamente importanti non c'è quindi nella situazione generale dei mercati un atteggiamento corale di uscita dal rischio questo va tenuto molto molto presente perché ce n'ha siamo accorti anche osservando i prezzi dell'oro che da mille dopo aver costruito una sorta di base a mio parere molto fragile in area 1290 hanno provato un'estensione quasi all'ambire una importantissima resistenza che vi do anche per questa settimana 1310 dopo la quale c'è stato un ritracciamento l'oro in questo caso è stato un po usato come bene rifugio ma sulle materie prime c'è un po di barahonda rame petrolio rame adesso ma petrolio nelle ultime sedute di questa settimana hanno preso una legnata molto molto forte e di conseguenza un po di storno sulle commodities è andato a toccare anche il metallo giallo commodities usata sia per il ciclo industriale ma adoperata anche come rifugio e pertanto ha in avvicinamento a quota 1308 1307 sono cominciate ad arrivare delle prese di profitto al ritracciamento in inversione di 1303 sull'oro abbiamo visto delle discese questo porta a dire che sui mercati che hanno molto sofferto si era arrivati venerdì e lo adesso ha dei livelli di estremo sacrificio sui mercati che avevano come per esempio il petrolio guadagnato molto o come l'oro che erano stati oggetti di acquisti tecnici di per uscita dal rischio e acquisto di protezione a un certo punto il guadagno veloce perché comunque l'oro da 1290 a 1308 non ci ha messo molto e sono comunque guadagni del 2 per cento e in una settimana si portano a casa questi guadagni perché 2 per cento una settimana vuol dire 8 per cento al mese vuol dire 96 per cento l'anno la mano dei fondi e degli investitori istituzionali così lavora con questi rate di percentuali proiettati su base anno questo ha dato origine delle prese di profitto quindi oggi abbiamo un mercato che rimbalza da azionario europeo che rimbalza da eccessi chiaramente che cosa è che ha dato il via questo rimbalzo notturno che è un rimbalzo notturno che è anche andato a riverberarsi sui future americani è vero che come diceva davide oggi è una giornata di chiusura per l'america e per l'inghilterra ma i fiori americani lavorano lo stesso e questo dopo una giornata un po' difficilotta e volatile questa l'SP dà comunque l'idea di un rimbalzo un rimbalzo che mi lascia lievemente perplesso lo dico perché vedo posizioni di indicatori ancora non molto congruente almeno sul grafico orario di SP500 spesso nasdaq si comporta in un modo differente proprio diversa struttura del grafico anche di nasdaq me lo vado adesso a vedere nasdaq in h1 anche in questo caso ritengo che ci sia da stare un po' tranquilli e magari la mattinata dalle 10 fino a mezzogiorno mezzogiorno e mezzo luna potrebbe essere una mattinata di lieve ritracciamento almeno sui fiori sui fiori americani e qui sono replicati spx 500 nas 100 us 30 i nomi non sono mai quelli fiori perché c'è un diritto di copyright sui nomi degli strumenti finanziari mercati fiori rimbalzo eccetera eccetera un rimbalzo che anche motivato da un discorso cos'è che non piace alla comunità finanziaria ovviamente noi oggi facciamo soltanto un ragionamento di analisi tecnica non facciamo assolutamente discorsi di tipo politico ce ne guardiamo bene ognuno ha le sue opinioni e sono tutte rispettate la comunità finanziaria ha visto questo governo svilupparsi gli ha dato molto credito è andata a provvedere nei mesi di marzo e di aprile quindi subito dopo le elezioni anche a robusti acquisti sul settore bancario un settore che traina molto la nostra economia e non te ne negarlo e che adesso è però in un ritracciamento cioè l'aerostox banks abbiamo iniziato alle 9 a parlare stava più due qualche cosa adesso sta più 1 e 02 quindi attenzione perché infatti oggi quanto riguarda il nostro mercato siamo partiti forte abbiamo fatto 22.850 adesso siamo a 22.625 si balla oggi sull'italia questo non mettiamolo in preventivo le accelerazioni non vanno comprate al volo questo a questo governo è stata data fiducia il tempo è passato lega 5 stelle non si mettevano d'accordo la fiducia è continuata purtroppo alla comunità finanziaria non è piaciuto il documento 250 miliardi caro draghi tirerci su una riga eccetera eccetera non si poteva pensare che questa la comunità finanziaria sarebbe piaciuto per cui di fronte a uno spread molto basso sono cominciati già le posizioni erano state create acquisti di bunde vendite di btp con tutto ciò che ne è venuto fuori chiaramente la comunità finanziaria ha provato a fare degli interventi di persuasione più o meno occulto più o meno palese stato ricordato che siamo dei peracottari che siamo ricacciottari e ci hanno fatto la vignetta sul frankfurter gemain che siamo a bordo di un apetto col braccio a modi ombrello che ci precipitiamo con tutti i debiti pubblici eccetera eccetera mattarella chiaramente ha ricevuto dei messaggi molto importanti in tal senso è stato nominato come ministro del tesoro dell'economia paolo savona persona nella comunità finanziaria assolutamente rispettata e di grandissimo prestigio persona ovviamente come molti di noi del resto critico nei confronti di un'europa nella quale ovviamente ci sono 21 velocità e 21 livelli diversi di ricchezza o se la vogliamo vedere dall'altra parte del bicchiere mezzo vuoto 21 livelli di povertà differente perché ovviamente l'europa così come qualche qualche problema e ce lo presenta di conseguenza la la paura di una deriva ancora più non euro centrica ma euro ex centrica di una deriva ancora più contro l'attuale europa è stata palese e mattarella ieri l'abbiamo visto nei telegiornali ha detto non potevo nominare un ministro che avrebbe tutto fatto meno che l'interesse dell'italia a rimanere in europa qui il discorso ripeto si fa politico al mercato non piaceva questo mattarella ha ritenuto opportuno mettere uno stop e al posto di savona oggi dovrebbe parlare con cottarelli il quale cottarelli è una persona altrettanto stimata forse un po più discussa però probabilmente più gradito il fatto che il fatto che il rinvio di savona che molti pensano sia stata una manovra della lega per dire facciamo in modo di bruciare due candidati sapete quando in politica si vuole cambiare le cose si cerca di risolvere i problemi nominando delle persone si sa che queste persone hanno poche chance le si brucia per cui a un certo punto poi si dice ai problemi non possono essere risolti si deve andare a votare come il calco della lega probabilmente è quello che se si tornasse a votare prenderebbe ancora più voti quindi porterebbe via i voti a quella parte residua di cento destra a parte bruscoliana che rimane e forse anche il calco del 5 stelle è quello che se come dice come ha detto d'alema in un fuori onda anche il pd perderebbe ancora di più e quindi in un certo senso il fatto di andare a votare solidificherebbe ecco l'abbiamo detta giusta le i baricentri dei due poli opposti in maniera molto chiara con una definitiva resa dei conti perché ovvio che è difficile è molto difficile pensare che criteri logici possano veramente condurre la lega a governare col 5 stelle perché le dura è un po di ora allora è evidente che il rinvio alle elezioni è probabilmente la strada che anche se cottarelli facesse il traghettatore i mercati vedono di buon occhio perché perché un conto è pensare che adesso la lega o 5 stelle prendano ancora più voti e un conto poi vedere quello che succede a settembre ottobre quando ci saranno eventualmente nuove elezioni la finanza avrà modi per cercare di ricompattare forse comprarci un po di questi voti e allora lo scampato pericolo di un governo con savona che avrebbe voluto dire ok il governo adesso a questo punto parte e parte un governo populista con le manovre redditi di cittadinanza espansione di spesa pubblica eccetera i mercati lo hanno visto in modo gradevole ed ecco perché di fronte a posizioni sacrificate andiamo quindi a vedere che cosa era successo anche sull'italia con un grafico più grande al mercato è piaciuto che si sia in fondo comprato tempo al mercato è piaciuto che si sia in fondo comprato tempo ora da un lato il grafico che state osservando adesso mi auguro che tutti lo vediate bene ma che soprattutto vediate quello che c'è qui sotto e non tanto le candele però se volete vedere le candele poi lo allarghiamo al mercato che cosa ha dato occasione di rimbalzo il fatto che se vediamo questi indicatori qui abbiamo il massimo dei dell'esposizione sbagliata cioè non mercato che scende vedere una linea rossa che compra è l'indicazione che c'è qualcuno che sta comprando sulle discese sbagliando in un mercato che scende c'è qualcuno che sta vendendo sulle discese a questo signore che compra in maniera ovviamente premiata dai prezzi al tempo stesso però se andiamo a vedere questa linea rossa siamo andati sul massimo precedente che era questo superato soltanto da questo massimo precedente qua stiamo parlando sul grafico orario del buona parte del 2018 da febbraio al tempo stesso andiamo a vedere la posizione di chi era nella parte buona e la linea rossa supera i massimi raggiunti dalla linea blu e va a toccare i massimi precedenti della linea rossa la linea blu supera i minimi precedenti fatti dalla linea blu che era questo un minimo qua e un minimo qua ed è andata anche a superare i minimi della linea rossa stessa quindi quando il mercato arriva a livelli di quasi assoluto eccesso rialzista da parte di coloro che sono in posizione sbagliata quindi questa è un'indicazione di profonda sofferenza quasi su massimi assoluti quando il mercato arriva su livelli di massimi assoluti per quanto riguarda chi invece sta godendo di una buona posizione è chiaro che il mercato comincia a farsi dei ragionamenti e facendosi dei ragionamenti che adesso vi andrò a esporre anche con delle percentuali a un certo punto va a fare dei delle prese di profitto adesso vado a prendere le cose che sono successe nell'ultimo mese noi abbiamo perso il 6 per cento contro un dax che nell'ultimo mese ha guadagnato il 3,6 per cento e un euro stocks qui c'è un po più di banche che ha guadagnato un po meno meno 6 e 4 più 3,6 fa un differenziale del 10 per cento fra fib e dax e queste sono informazioni importanti più 4,1 a tre mesi e 1,4 a tre mesi in questo caso negativo per quanto riguarda la nostra borsa fa un 5,4 per cento un 10 per cento a un mese di differenziale col mercato che comunque benchmark dell'europa un 5 per cento su base trimestrale per quanto riguarda il ratio di performance a tre mesi sono indicatori di eccessi da riequilibrare questi eccessi non sul settimanale che è una cosa che gli istituzionali guardano relativamente poco ma sul bisettimanale sono confermati meno 6 e 7 meno 6 e 4 quindi quando cominciamo avere ratei di performance negativa del 6 per cento a un mese che come dire il 72 per cento anno e quindi con anche questo 04 il 76 meno 6,7 per cento a due settimane che significa dire il 13 per cento su base mensile su queste proporzioni il mercato comincia a fare delle riflessioni e queste riflessioni le tiene di buon conto teniamo anche presente questo è un algoritmo che io ho ricavato dalla mia esperienza di lavoro presso investitori istituzionali teniamo anche presente un'altra cosa negli ultimi 12 mesi questo è stato è un argomento che noto di dibattito sui social ma siamo sempre una borsa buona perché è vero che perdiamo a tre mesi è vero che perdiamo un mese ma guadagniamo su a un anno e allora andiamo a vedere a un anno la nostra borsa quanto ha fatto fatto il 5,7 per cento certo la meno peggio fra le borse europee dax ha fatto l'uno e comunque inferiore a quello che hanno fatto le borse americane che è difficile ancora vederle stornare perché nonostante tutto hanno performance ancora lusinghiere quello che si può notare è che nell'algoritmo che io presento c'è anche indicato il prezzo da cui questa tendenza che è una tendenza laterale siccome la chiusura di venerdì del nostro indice è stata 22 e 4 si può invertire questa tendenza ed è 22 135 anche perché adesso ormai fra l'indice fiuscia con lo stacco dividendi le cose si sono pareggiate mi rendo conto che stiamo entrando un po sul tecnico però in questi webinar cerchiamo di non fare troppi effetti speciali ma di dare anche dei contenuti che possono avere un interesse così poi magari voi ve lo rivedete tanto oggi pomeriggio davide ci darà già la registrazione e magari impariamo tutti insieme a qualche cosa di nuovo quindi in questo schema in questo schema la tendenza ribasso che il nostro indice mostra a sei mesi confermata a tre mesi acquita come ribasso forte meno 6,4 si commenterà solo nell'ultimo mese meno 6,7 tanto più e qua individua delle zone di prezzo 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 tanto infatti che il massimo di oggi è 22.850 che è il prezzo che invertirebbe la tendenza degli ultimi dieci giorni e che se confermato invertirebbe la tendenza a rialzo degli ultimi cinque giorni quindi ho una resistenza 6,30 superata ma adesso siamo a 5,25 quindi c'è stato e adesso poi andiamo a vedere la dinamica di come ci siamo mossi in questi primi 42 minuti di contrattazione poi c'è un 9,70 però vedete 6,30 6,65 questi sono due prezzi 6,65 anche qua 135 anche qua siamo a 5,50 quindi siamo anche sotto memorizziamo 135 perché oggi sarà un supporto importantissimo e vedete che questo 135 corrisponde di pochissimo al minimo che è stato fatto quindi quando il mercato è arrivato venerdì su un prezzo sono sul canale youtube nostro e sul canale youtube di infinox fate domande relativamente alle argomenti tecnici non a queste cose scrivete se no in via privata davide calabrese grazie quando siamo arrivati su un prezzo molto importante in eccesso il mercato ha dato una reazione questa reazione però adesso deve fare il conto con i prezzi che dobbiamo andare a superare e proviamo a identificarli sia graficamente oltre che con questi algoritmi che io vi ho prospettato e che sono livelli di prezzo che si trovano sul sito mytrader.club graficamente una resistenza veramente tosta è questa tosta perché perché osserverete tutti anche la profonda inclinazione di questa trend line cioè questa non è una trend line facile non vado adesso su questa trend line a fare un un collegamento nonostante che sia pazzesco come i minimi si collegano in maniera direi istantanea da questa trend line fatta così vado a osservare che a 22 e 8 trovo troverei questa zona di massimi da cui il mercato è sceso di brutto che corrisponde a questa zona di minimi in questo caso trovo quello che si chiamano i swing contrapposti un supporto che è stato rotto pull beccato si rompe ci si sbatte il grugno si va sotto che adesso è resistenza e il mercato un po' di fatica la sta facendo e sta creando anche molta volatilità perché abbiamo aperto da 42 minuti e si è creata una candela probabilmente sarà su base oraria di 370 punti questi 370 punti su base oraria sono comunque un rateo estremamente robusto il doppio esatto della volatilità che oggi avremmo dovuto vedere sviluppata cioè in 42 minuti il mercato si è fatto quello che normalmente dovrebbe fare in 4 ore e forse vista la l'accelerazione se quindi la volatilità giornaliera prevista oggi a 520 punti e noi siamo andati a fare un massimo di 850 ci togliete 520 punti da 850 il vostro supporto per oggi è 330 cioè tornare sui livelli di chiusura può essere può essere per quelli che hanno un po le coronarie forti un'occasione di provare un long questo quindi sul nostro indice configura una situazione dove ancora le cose devono assestarsi perché comunque che ci sia cottarelli che ci siamo attarelli il mercato delle idee ancora se le vuole fare con molta calma nel frattempo 46 minuti da quando abbiamo parlato siamo passati da una performance dell'indice delle banche europee dal 2 20 per cento siamo a più 0 59 e questo la dice abbastanza lunga sul fatto che lo spread ancora è robusto sia pure in attenuazione ma comunque le incertezze sul mercato restano chi si può giovare di tutto questo mentre noi in italia abbiamo ancora da regolare dei conti il signore con cui abbiamo cominciato prima questo signore qua che si chiama dax il quale signor dax c'ha un importante vantaggio competitivo chiamiamolo così cancelliamo anche tutto poco quello che abbiamo scritto qui sopra perché se vogliamo analizzare il dax che abbiamo come detto che ha come detto una quantità di 154 punti proviamo a vedere se inserisci indicatori personalizza ho dentro la piattaforma un indicatore che molti di voi conoscono si chiama overlay chart sul quale vado a mettere eur usd scusate perché nonostante che la bolsa italiana stia tornando indietro beh quello strappone di tanti punti ovviamente è stato preso a profitto il dax ancora tiene e perché tiene perché se vi fa piacere ingrandisco il grafico questa è una domanda che vi faccio magari se due o tre di voi mi rispondono ne sarei lieto perché a volte nei web precedenti mi è stato detto Giovanni guarda il grafico si vede non si vede eccetera eccetera ok non mi rispondete lo l'ongrandisco io vedete che il dax oggi ha aperto strappo questa era la chiusura questa candela verde la chiusura strappa fa molta volatità ok perfetto vedete queste due candele gialline che scendono questo è l'euro dollaro caricato dentro il grafico del dax conviene in questo caso chiederò scusa stringere un po' la la faccenda perché il dax si giova vedete il dax scende l'euro dollaro risale il dax risale l'euro dollaro riscende quindi il dax che è un listino industriale quindi composto da molte aziende a parte la minavagante deutsche bank ma non è questo il webinar per parlare di queste cose composto da aziende che proprio esportano che proprio esportano ovviamente se l'euro è in ritracciamento il dax spinge ancora un poco soprattutto se euro come vedete incontra una resistenza per cui vi do un'altra non dritta perché per carità qui siamo tutti a lezione indicazione che può servirvi se voi riuscite a caricare questo indicatore dentro la vostra metatrader su un time frame sufficientemente significativo della tendenza in corso avete moltissime indicazioni una di queste è per esempio che se osservate questo grafico lasciate stare gli indicatori che in questo momento ci interessano fino a un certo punto anzi li mettiamo un po' più piccolini vedete questo è un minimo del dax da cui il dax poi risale fino a questo ritracciamento questo è un massimo dell'euro dollaro 1,20 circa l'euro dollaro vi ripeto è il nostro governo è giallo verde verde, verde, lega, giallo, griglino quindi il dax è il governo l'euro dollaro è il governo italiano al di là delle battute qui avete un doppio massimo dell'euro dollaro guardate doveva fare il massimo il dax qui avete un minimo del dax guardate doveva fare il minimo dell'euro dollaro non è un gioco di prestigio non è una combinazione infortunata è che i mercati quando come in questo caso sono molto correlati perché la performance del dax è tutta fatta sull'euro dollaro altrimenti il dax non avrebbe avuto dati macro come non ce l'ha nessun indice europeo per performare vedete che l'incontro avviene intorno fra l'euro che scende e il dax che sale intorno al 50% che il mercato ha visto come zona tecnica oltre che chiaramente per quanto riguarda significativamente il dax ha visto intorno al 61 8% ma non vi sfuggerà che su questo minimo del dax siamo andati a fare un minimo vicino a un minimo di swing precedente dell'euro dollaro ovvero questa è una modalità di costruire in modo molto casereccio uno spread e quindi di costruire in maniera estremamente fatta un po' così delle zone operative e di lavoro utilizzando chiaramente gli strumenti normali dell'analisi tecnica dove massimi e minimi precedenti di entrambi gli strumenti possono essere messi in relazione per fare un certo tipo di lavoro per cui oggi se pensiamo che il dax debba scendere avremo assolutamente bisogno che l'euro dollaro torni sopra determinati tipi di livelli perché siamo partiti da qua venerdì scorso siamo qua adesso si torna qua a conferma che gli strappi hanno senso ma gli operatori intelligenti o comunque quelli più informati li usano li usano per andare a prendere profitto e che si sia preso profitto da questi strappi ve lo dicono anche i volumi stavo osservando mentre parlavo con un occhio l'Italia voglio tornare sull'Italia inserisci indicatori volumi perché l'ho notato anche sui mercati ufficiali osservate la candela ancora mancano sette minuti e quindi ci saranno ancora qualche altro contratto che passerà questo è un book sui mercati ufficiali quindi ancora qualcosa si deve muovere ma guardate quanti volumi sono passati in questa prima ora sono passati in questa prima ora molti più volumi 2.000 contratti qua sul mercato ufficiale sono 11.413 per la precisione sono passati stranamente da qualche secondo non passano più contrattazioni praticamente passati sette contratti adesso ecco quello che notate è che sia pur di poco siamo su una candela con una forte shadow superiore con volume a questa candela che invece aveva tante impostazioni quindi questa candela di oggi fatta di come abbiamo detto 375 punti questa è una candela di benchmark per chi vuole pertanto comprare questo ribasso pensando che nei prossimi giorni la borsa salga si muova osservando con molta attenzione questa candela qua e vada a lavorare a multipli di 375 se il minimo di oggi rimane questo tra 6 minuti lo sapremo 475 meno 375 il prossimo minimo è 2200 quindi molto vicino a venerdì 2200 meno 375 nel caso la borsa scendesse sarà 21.725 personalmente vi dico di stare attenti anche a 21.800 che è un livellone of the matter ma di certo questa candela di volumi adesso ne sono passati anche sul contratto che vedete 22 guardate guardate qui all'avvicinarsi della scadenza oraria come questi numeri cominceranno a modificarsi nel frattempo sono passati 70 contratti in due minuti sul nostro mercato 70 contratti in due minuti c'è un'accelerazione di volumi a chiusura della candela oraria dove molti trading system poi setteranno le loro tematiche quindi attenzione a guardare queste cose con veramente con molta molta focalizzazione perché questo è un mercato che sta comunque scambiando tanto e che si sta muovendo considerato che è chiusa Londra che è chiusa l'America quindi l'America dorme ma Londra come vedete Davide è in posizione Londra è accesa e quindi il fatto che ci siano molti volumi la dice ancora più lunga e stanno arrivando tantissimi volumi anche sulla piattaforma Infinox a riprova che i retail sono un po' in difficoltà perché quando vedete un mercato che ha accelerazioni improvvise di volumi su una candela non direzionale che non va a fare nuovi minimi nuovi massimi vuol dire che all'opera ci sono più i retail che i professional e se il mercato vuole calmarsi per le prossime candele non dovrà superare questa resistenza di volumi perché sennò altrimenti vuol dire che è un mercato che sarà ancora molto molto robusto tornando quindi al discorso del signor Dax sperando che questo escursus sull'Italia vi abbia comunque fatto piacere va detto che i Dax vi togliamo adesso il discorso dell'indicatore che abbiamo messo prima ha una situazione nella quale potrebbe giovarsi di una stabilità delle borse la posizione del MACD con questa indicazione qui a gomito dice che solo la rottura dei minimi odierni andrebbe a invalidare un quadro che sembra di recupero la struttura tecnica del Dax oggi ha fatto questa escursione personalmente se dovessi vedere una rottura dei minimi odierni aspetterei il Dax in area 12.900 punti i quali sono anche un livello dove c'è a 9.14 un inizio di short eventuale questo è un livello tecnico long sopra short sotto che segnala la macchina del quale poi ognuno può fare ciò che vuole un long sopra 9.54 non so se la macchina l'avrebbe preso perché lo può prendere anche come ordine semiautomatico perché quando c'è uno scatto eccessivo di prezzi la dashboard non manda gli ordini a mercato vi dico subito se l'avrebbe preso o meno oggi l'apertura del Dax è stata 9.75 forse l'avrebbe preso cioè uno avrebbe comprato 9.75 perché il limite come rialzo noi lo calcoliamo queste sono le forme della dashboard plottate sul nostro sito non sarebbe stato conveniente comprare Dax oggi con questo salto di prezzo oltre 990 il mercato fosse andata di basso non sarebbe stato conveniente comprarlo oltre 850 questa è un'indicazione che noi diamo sul nostro sito e che a mio parere è estremamente importante perché fa proprio vedere quali sono i dei livelli di protezione da andare troppo dietro ai mercati 5.40 sarebbe stato per la nostra borsa e beato chi almeno quel livello di accelerazione se l'è comprato perché sarebbe stato interessante quindi Dax può avere questa struttura che è questa nel caso che oggi il mercato volesse fare il fenomeno possiamo ipotizzare anche di tenere sotto controllo 40 l'80 di prima che secondo me è veramente un livello pesantissimo 40 60 80 eccesso da 80 siamo già in eccesso 100 110 e questo sull'America non darei indicazioni ma andrei a osservare che l'America in queste ultime due ore ha di nuovo sentito l'arretramento del cambio euro-dollaro che ridà di conseguenza forza al dollaro un dollaro che non ha in questo momento le idee chiare sullo yen perché l'uscita di denaro dalle borse ha ridato denaro sullo yen quindi quando ritorna denaro sullo yen c'è propensione alla tranquillità non a rischio attenzione che su dollaro yen qui c'è una candela di forti volumi quindi la candela di benchmark è questa 109,65 108,95 70 pip 109,65 più 70 proiettiamola sopra per chi fa dollaro yen per chi invece pensasse che le borse devono calare ancora ci andremo a prendere questa candela ce la proiettiamo da questo minimo 108,30 può essere un minimo interessante direi di fare anche attenzione a discorso non tanto di oro oro lo vedo nicchione ma nicchia tenete ancora ma c'è molta volatilità sulle materie prime sul petrolio non vi sarà sfuggito cosa è successo al petrolio ultimamente sono prese di profitto possiamo stare questo grafico ma un mese fa il petrolio stava a 62 è andata a 72 quando le accelerazioni si fanno estremamente inclinate vanno sempre controllate nella loro qualità e soprattutto andando a prendere nuovi ma vecchi massimi scusate si esce da questo triangolo rottura vi si rientra l'incrocio a x delle due linee è importante se però avete una candela daily che vi ha chiuso sotto questo incrocio a x attenzione perché il giorno dopo si riparte e si rientra subito ma rientrare in un triangolo così inclinato l'è un po' dura l'è parecchio dura e pertanto sul petrolio andiamo a fissare dei livelli di intervento perché il mercato ha sentito il Fibonacci ci ha fatto una risalita si Giova Fibonacci dice che il minimo di oggi sto rispondendo a una domanda del collega Giovanni Gervasio potrebbe potrebbe però hai detto giustamente te per un rimbalzo raggiunto un po' al volo raggiunto un po' al volo questo minimo potrebbe essere importante vediamo cosa ci dice la nostra dashboard su Excel perché 62 no 64 62 qui sei in prossimità su un minimo addirittura su un ciclo mensile quindi su 62 chi ha comprato 62 adesso sta a 66 guardate la volatilità del petrolio oggi andiamo ad osservare anche su un time frame intraday vedete il mercato è arrivato e ci ha fatto un lavoro interessante quindi direi che qui comunque su questo 65 pardon stavo dicendo 65 c'è un livello di attenzione del resto anche il sentiment dice su base H4 che siamo questo molto vicino a questo il rosso vicino al blu il blu vicino al rosso però per rimbalzo non personalmente per come la posso vedere io non vedo altro che rimbalzo stesso perché va un po' chiarito questo tipo di discorso un'altra cosa che andrei a monitorare con una certa attenzione è comunque l'atteggiamento in generale che il dollaro ha verso numerose valute andiamo a cercare un dollar index da qualche parte me l'ero salvato lo metto qua questo è dollar index ancora molto forte molto robusto in termini di sentiment qui discesa comprata qui discesa comprata discesa comprata per il momento il dollaro sia su euro che su sterlina che che sono valute importanti ma anche sull'Australia e su Nuova Zelanda è per adesso comprato sulla debolezza non c'è al momento ancora un pattern strutturale segnalo però che un eventuale ritorno sotto questa trendline dovrebbe andare poi a chiedere un test qua sotto da qua a qua tirato da qua a qua tirato quindi suggerirei di controllare per oggi mettere un allarme in area 93,8 perché dollar index potrebbe dare qualche primo timido segnale di deflusso di risorse dal dollaro ma che personalmente ritengo debba essere accompagnato dai seguenti livelli tecnici uso e parcheggio qui grafici un ritorno assolutamente di euro dollaro sopra i massimi di 1,17 e anche 40 vi metto qua dove c'è questa lega qua è anche 1,17 e 50 e per quanto riguarda un altro cambio importante la sterlina la voglio a 1,33 e 75 qua sopra vedete questo questi scalini vedete quanto le candele sono lontane da questi scalini chi ha dimestichezza col super trend potrebbe trovare delle similitudini anche perché da un lato questo recupero della linea blu significano acquisti della mano primaria ma il fatto che questi acquisti siano in un mercato che scende dà da pensare anche visti i bassi volumi che vi siano delle chiusure di short perché la linea si sta inclinando in un modo che mi piace poco se questi invece fossero acquisti più strutturali si deve vedere ma nelle prossime due candele da quattro ore un recupero dell'indicatore sentiment sopra questa linea assolutamente e un ritorno della linea rossa sotto questa linea qua io intanto sono le 10.06 il mio tempo sarebbe terminato chiedo all'amico Davide Calabrese se ha qualche indicazione da darmi sì Gio stavo guardando se c'erano domande arrivato sì esatto perché i colleghi forse sono ancora un po' addormentati come lo siamo tutti non è che lunedì mattina siamo tutti molto molto fenomeni e spero di non averli annoiati questa è la struttura grafica del DAX a un minuto per oggi vista la chiusura di molti mercati suggerirei di usare questa pendenza così e quindi adesso se il mercato vi scende si potrà probabilmente attenderlo molti pensano c'è da chiudere questo buco io guardo anche questa media mobile 12 9 60 può essere un livello di intervento interessante così un altro livello di intervento interessante e concludo sempre su DAX in H1 andiamo a prendere i minimi questi del 18 di maggio e facciamo passare una trendline qua cancelliamo facciamo prima cancelliamo tutti gli oggetti grafici ve la rifaccio prendete questo minimo lo fate passare da questi due massimi così trovate un importante supporto con questa linea che taglia in mezzo un supporto per oggi notate che vi sta anche su questo supporto ingrandiamo il grafico e concludiamo speriamo in bellezza vi sta anche passando su questa linea questo supporto la media mobile a 200 ore è importantissima importantissima il mercato ha sentito una resistenza raggiunta come avete visto prima con troppa allegria si è fermato un po' prima consegnando la patatina a quelli che comprano la forza come nulla fosse e sono ancora molti fra di noi un errore che io ho fatto tante volte che ho sempre pagato stracaro comprare la forza comprare debolezze eccessive però vedete che il mercato ha un crocevia vedete questa piccola strada si unisce con questa grande strada di scorrimento a 13.000 si incrociano 13.000 numero tondo 13.000 è il classico prezzo che sia perché è numero tondo sia perché altre cose si può definire tanta roba questo è quanto come io ogni tanto dico a voi studio a te Davide grazie Joe grazie Joe come al solito super dettagliato io direi di controllare se ci sono delle ultimissime domande per esempio eh sì corretto Giuseppe dice una cosa vera nel senso che quando quando ti sentiamo Joe è anche vero che si sta a guardare perché sei molto dettagliato per cui cioè perlomeno dal mio punto di vista non ci sono troppe domande perché è tutto ben comprensibile ben chiaro ovviamente per chi io mi metto nei panni di qualcuno che magari invece per esempio per me è comprensibile è chiaro per tanti secondo me potrebbe essere arabo arabo antico per cui dico a coloro che non ci hanno capito niente perché non ci scrivete una mail su italian desk chioccio a infinox punto com piuttosto che insomma chiedete di essere contattati vediamo un po' di cerchiamo sicuramente di venirvi incontro di aiutarvi di spiegarvi di riassumervi quello che è stato il percorso e quello che sarà il percorso che stiamo facendo con giovanni e con marco perché questa non è una puntata a se stante ma fa parte di un percorso siamo partiti dalle analisi fondamentali dalle analisi base con marco il lunedì un lunedì sì un lunedì no con giovanni facciamo invece queste analisi dettagliate soprattutto su indici ma in generale sul sentiment e su tutto su tutti i vari strumenti per cui se non ci avete capito niente al di là della registrazione di tutte le registrazioni che ce le avete già su youtube mandateci un messaggio non abbiate paura di dire non ho capito perché è più che è più che normale io ho detto questo metto sempre a disposizione la mia figura piuttosto che anche la figura di Giovanni e degli altri colleghi perché comunque siamo sempre disponibili perciò ragazzi se avete capito bene perché è una grande quello che Giovanni spiega tutte le volte è sempre di grandissimo interesse se non avete capito chiedetecelo anche in privato ci troviamo di persona a tu per tu non di persona al telefono a tu per tu con ognuno di voi e cerchiamo di fare un lavoro fatto al meglio piuttosto che sapervi all'interno del mercato con magari soldi veri e senza un'idea chiara nella testa spendiamoci su un'ora due ore una settimana un anno insieme per cercare di portare a casa qualcosa di buono con queste parole io Gio ti saluterei e ti ringrazierei come solito io ringrazio voi ringrazio voi e ringrazio voi ok per cui il nostro appuntamento è al prossimo webinar con Marco Tosoni o comunque nelle varie dirette con Giovanni e Renato De Carolis domani ci sarai tu mentre oggi farò farò qualcosa io con Renato sarà qualcosa di più soft visto le chiusure dei mercati le bank holiday visto che oggi non vesto in giacca e cravatta per cui probabilmente faremo vedere un po' gli uffici di Infinox e parleremo in maniera soft anche della situazione italiana per cui vi saluto vi ringrazio del webinar e ci vediamo alla prossima puntata buona giornata a tutti buona giornata a tutti voi arrivederci a tutti